Diamo spazio alla musica, una musica particolare. Loro hanno garantito un viaggio onirico, partendo, quindi insomma siamo ancora un po' sonnati, possiamo ogni tanto chiudere gli occhi e farci trasportare da un qualcosa che è jazz, un qualcosa che va dal profondo e poi tra l'altro andrà in vibrazione con, questo è un po' questo magico, perché con il generatore, no, però per chi altro andrà in vibrazione con le onde dell'acqua e soprattutto con il verde che si metterà a suonare insieme a voi, perché poi la musica è questa, no? Un talentissimo affermato, sono gli Spigo di Trio, buon divertimento a tutti! Un talentissimo affermato, sono gli Spigo di Trio, buon divertimento a tutti! Un talentissimo affermato, sono gli Spigo di Trio, buon divertimento a tutti! Un talentissimo affermato, sono gli Spigo di Trio, buon divertimento a tutti! Un talentissimo affermato, sono gli Spigo di Trio, buon divertimento a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti